Se volete acquistare i crediti passate da FIFA Coinzone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice coupon JOVISPO otterrete 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, benvenuti o iscritti, più di tutti bentornati su JOVISPO. Io sono JOVISPO, questo è l'episodio di scontro tra titani, stagione numero 3, episodio numero 7. Prima di iniziare volevo dire di passare dal canale del mio grafico, troverete il link qui in descrizione e l'annotazione con un collegamento diretto diretto al suo canale in alto a destra. Dunque se volete passateci, fa anche l'io, lui video di foot e fa anche belle grafiche. Dunque, nello scorso episodio vi ho chiesto di scegliere tra Diego Costa Tots e Adulis Tots. La vostra scelta è stata... sono entrambi spagnoli, quindi quello che vedrete apparire sarà... è stata la vostra scelta. Dunque, Diego Costa Tots. Diego Costa Tots. Allora, 18 di testo, 88 di timing, 92 di tiro e 89 di velocità. Secondo me, 3 partite, 3 partite e 3 gol. E dunque, andiamo avanti verso la prossima partita. Dunque, la squadra del nostro avversario. Allora, e questa è la partita che non si aspetta a nessuno. Allora abbiamo Andanovic come attaccante dei Sankis, Wajosus come DC-GOC, Benatia, Raul Albiol, Vildic, tutti i DC insomma. Allora, andiamo Calaione, Amsic e Arnares, poi abbiamo Gomez in porta. Vabbè, questa è una partita facile, 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 facile. Andrei va. Di Natale. Il giro di Di Natale è Paolo. Grande, 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 grande. Diego Costa, non si viva questa rete. Però, vabbè, dai, non fa niente. No, no, Wajosus! Ma come cazzo fate? Siete merda! Castellini! Ma va fanculo, dico io, fanculo! Mamma mia, dei Sankis che corre peggio di Ronaldo! Beh, mamma mia, lo avete detto? Assurdo, assurdo, guarda. Vabbè, segnala! Ma va fanculo, ma inizio di nuovo a non segnare! Porca di quella troia! Vai Di Natale, almeno questa segnala! Oh, ma! Ma come cazzo fate Di Natale a sbagliare? Contro Gomez! In porta! A qui c'è qualche problema! Mamma mia, qui c'è qualche problema! Uno può capire una volta, Due volte, ma non tre, quattro, cinque volte! Mamma mia, mi deve segnare chi è lì in testa! Vai Di Natale e tira prima! Sì, è rigore, ma che cazzo! Trecento ore per tirare! Rosso, rosso, vattene, 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 vattene! Ah, hanno cambiato i porti, ha cambiato i porti, hanno messo Gomez con la divisa del portiere di Natale! Di Natale, 99 di rigore! Vai Di Natale! Oh, bra la! Due gol, due gol, due gol, un if! Dai, questa volta ne fai quattro di gol! E quitta! L'avversario quitta! Ok! Va bene così! Va bene così, dunque! Faccio una ricerca e tra poco vi dico quale potrebbero essere le scelte! Allora, potrete scegliere tra due if, solo che uno è un sì, però è un if, ed è Fabregas88 if, oppure disco if. Dunque, commentate qui sotto, fate la vostra scelta tra questi due e commentate, dai! Dunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un bello pollice all'insù, iscrivetevi al canale se vi siete già iscritti! Qui è JoeySpo, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima per un nuovo video! Ciao e alla prossima!